Eccoci bentornati su Go Games e siamo su Final Fantasy VII Rebirth e in questo video andremo a vedere come portare a casa facilmente il percorso con il Chocobo in volo. Stiamo parlando della terza sfida che è particolarmente difficile. In questo video vi mostro come fare il percorso per prendere tutti gli anelli e come andare a prendere gli ultimi due, quindi semplicemente lo vedrete dal video a un certo punto dovrete tornare indietro, prendere l'elevazione e ritornare verso gli ultimi anelli così da avere la giusta elevazione per diciamo l'ultima discesa e risalita per poi arrivare ai due anelli finali. Per cui giovani vi lascio al video, guardatelo così che possiate avere un'immagine chiara di come andare ad effettuare il percorso e come al solito vi ringrazio per il supporto sia tutti gli abbonati sia tutti super grazie e come al solito vi invito a iscrivervi, attivare la campanella, lasciare like, commentare, condividere e vi do appuntamento al prossimo video augurandovi una buona visione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.